Noi siamo Wings Spy Camper! La missione ha inizio! Copri il quartiere generale delle Wings! Attivazione! Indossa il bracciale! Missione Wings! Con il binocolo segreto trovi subito il tuo obiettivo! E con la penna magica segni le coordinate segrete! Coprile con la luce spia! Siamo pronti! Metti la tua Wings nel dressing point! Pronta per l'avventura! Parte! Con il Wings Spy Camper diventi una vera Wings Spy! Le missioni non finiscono mai! Giochi preziosi!